Master Barman Special, meravigliosa giornata che la FIB, Federazione Italiana Barman, ha organizzato anche quest'anno in occasione della Tirreno CT a Carrara. Lezioni con i barman FIB e gara per un gruppo eccezionale di ragazzi speciali. E' il nostro punto di orgoglio, star vicini ai ragazzi meno fortunati. Nulla e nessuno si deve escludere. Noi abbiamo avuto la fortuna di lavorare in momenti splendidi, di lavorare mentalmente anche fermi. Questi ragazzi meno fortunati non sarebbe giusto metterli in un angolo, per cui dobbiamo aiutarli e dargli un mondo, una prospettiva nel futuro, nei limiti del possibile naturalmente, ma è un nostro punto di riferimento. Un grande in bocca al lupo e noi promettiamo di starli vicini nel limite del nostro possibile, delle nostre possibilità, delle capacità. Noi vogliamo starli vicini. I ragazzi di Master Barman Special sono studenti dell'alberghiero di Barga, accompagnati dal loro professore. Noi veniamo dall'Istituto Alberghiero di Barga e con me ci sono ragazzi del secondo anno, terzo anno e quarto anno. Ci cimenteremo in questa manifestazione a colpi di cocktail. Facciamo delle esercitazioni settimanali all'interno dei nostri laboratori, però qui quasi toccano la realtà. A scuola riusciamo a simulare, invece qui è reale. Serviranno dei drink al bancone, faranno una gara, delle prove con dei giudici che non sono i docenti della scuola. Più si prova, più ci si allena e più riescono sicuramente a fare bene drink, ma anche altre preparazioni. Quindi provare ad aver successo nella vita lavorativa, quando avranno finito con noi. Li conosciamo uno per uno, eccoli! Marco, classe E, terza D. Michelle, da terza E. Irene, quarta B. Ayub, terza C. Angelica, seconda A. Gabriele, seconda B. Juan, terza D. Angela, terza A. Finite le presentazioni, tutti in postazione e via con i cocktail, proposti e poi giudicati dal grande Mario Caterino, barman Fib. Si inizia con uno screwdriver. E, per il video, anche per la partecipare del suo a Sottotone, barman Fib. Grazie a tutti. Buono, equilibrato, destitante, buono, questo è uno screwdriver, brava, buono, potrei aggiungere un pochino più di bosca, però come alcolicità gliel'abbiamo dato al succo d'arancia. Buono come 12 C6, contratto di colore e alcolicità C6, bravo. Il secondo cocktail, scelto dal barman Mario Caterino per mettere alla prova i ragazzi, è uno stinger. Buono. 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 non è una caramella alla menta ma non è neanche una caramella troppo alcolica quindi è uno stinger in sé per sé il gusto ci siamo l'equilibrio tra menta e brandy c'è ti faccio un piccolo appunto è perfetto i drink che andrete a fare sarà un whisky sour ciao 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 Non è errato, va bene Ottimo, non ho da dire perché siete tutti bravissimi Ultima prova, il Cuba Libre Tutti bravissimi ragazzi, ma alla fine è Marco il Master Barman Special 2017 Marco è il ragazzo che ha vinto oggi questa bellissima manifestazione Si sono cimentati in tantissimi drink, hanno imparato tante cose E insomma, qui c'è il campione da vanno Marco sei un campione, sei contento? Si, contento, anche molto agitato Perché è stato molto emozionante fare tutti i cocktail insieme al presidente dell'FIB E quello che ti è piaciuto di più tra tutti i cocktail qual è? E' stato l'ultimo, è il Cuba Libre, mi è piaciuto molto farlo Ti piace fare il barman? Si, è una grande passione, emozione farlo perché è divertente E' un mondo che la gente può pensare che sia stare dietro a un bancone e basta Però c'è tutto questo dietro e a me mi piace un sacco Che è un'altra delle par permitisan Buon trainer! E' un confin dele. Che è un'altra passione! Che è un'altra passione! Che è un'altra passione! Che è un affin dele! Adieu un'altra passione! Che è un'altra nu한 passione! Grazie a tutti